A favore vogliare i fiori fra le rocce, con grandi cose fatto il Signore per noi, ha riportati liberi alla nostra terra, ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha pensato su noi. La nostra preghiera per tutti gli ammalati, a te Vergine, al tuo cuore di Madre che consola, ci rivolgiamo in preghiera. Tu salute degli infermi, soccorrici e intercedi per noi. Madre della Chiesa, guida e sostiene gli operatori sanitari e pastorali, i sacerdoti, le anime consacrate e tutti coloro che assistono i malati. Madre dell'amore, facci i discepoli del tuo figlio, il buon samaritano, affinché tutta la nostra vita diventi in lui servizio di amore e sacrificio di salvezza. Per tutti gli ammalati, diciamo, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, benedetta è il frutto del tuo figlio, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Maria, salute degli infermi, prega per noi.